Buongiorno e ben ritrovati! Vi propongo oggi una ricetta davvero particolare, una ricetta di riciclo. Ho comprato le fave, le utilizzerò per una ricetta di cui vi parlerò più in là e oggi riutilizzerò le bucce. Ebbene sì, le bucce si possono cucinare e sono ottime. Ora pulisco le fave che ho comprato questa mattina. Queste sono un chilo di fave. Metto le favette fresche all'interno di una ciotola. E le bucce in un'insalatiera. Queste le utilizzerò per un'altra ricetta. E mi occupo invece delle bucce. Queste le vado a lavare bene. Ho messo a bollire una pentola con l'acqua. Ora che è giunta a bollore, aggiungo le bucce delle fave. E le farò lessare per appena 5 minuti. Ho scolato le fave e le ho fatte leggermente raffreddare sotto l'acqua fredda. Così si potranno maneggiare con facilità. Ne prendo un po' per volta. E le taglio a pezzi. Più o meno di questa grandezza. E queste vado a cuocerle. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo un peperoncino e due spicchi d'aglio. E li faccio sottriggere. Ora che l'aglio è biondo, aggiungo le bucce di fave. Un pizzico di sale. Aggiungo un po' d'acqua di cottura delle fave. E lascio cuocere fin quando le bucce non saranno morbide. Le bucce delle fave hanno cotto per circa 20 minuti. Sono morbide. Posso spegnere e togliere. E le nostre bucce di fave ripassate in padella sono pronte. Per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo domani. Grazie. 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 Grazie.